ciao amici bentornati alla nostra dieta oggi è venerdì e come sempre c'è questa colazione uguale agli altri giorni ho cambiato qualcosa oggi vi dirò dopo lo spuntino con yogurt magro o parzialmente scremato e cereali integrali due cucchiai devono essere 20 grammi di cereali integrali il pranzo oggi l'ho composto così con tonno patate pomodori fagiolini lo spuntino ahiaiai oggi un pezzettino di pastiera per cui ho evitato la frutta sia a pranzo che a cena questi zuccheri erano fin troppi anche se il pezzettino era piccolo a cena poi 200 grammi di salmone con lattuga tutto condito con limone una carota e un po di pomodoro questa giornata da 1264 calorie perché non ho mangiato i due frutti ma la pastiera ha fatto il suo infatti senza frutta la fibra è bassissima ma andiamo alla giornata intera e vediamo nei dettagli come vi ho detto la colazione è sempre la stessa oggi però variato a posto della marmellata ho preso un cucchiaino di nutella sempre 10 grammi un bel cucchiaino abbondante che è previsto nella dieta in sostituzione della marmellata lo spuntino solito con uno yogurt a basso contenuto di grassi e cereali a pranzo mi sono deliziata con questi fagiolini se vi piacciono sono buonissimi e patate ho scelto le patate novelle hanno meno carboidrati poco meno il tonno e pomodori condito con due cucchiai di olio extravergine di oliva quindi avendoli usati a pranzo mi sono giocato anche quello della scena infatti ho messi tutte e due adesso ma stasera poi vedrete non lo metterò la mela non l'ho mangiata la vedete dietro ma non l'ho mangiata perché c'era la pastiera il pomeriggio già sapevo e ho evitato di mangiare la mela a pranzo anche se mi sono venuti poi i sensi di colpa queste cose fanno mangiare ma poi effettivamente soprattutto se stai facendo una dieta dici oh my god cosa ho fatto ma non si può tornare indietro quindi ho cercato di evitare poi la frutta però come vedete nella giornata la fibra è stata pochissima quindi non va bene questo può essere uno sgarro di un giorno basta